La scuola è in piazza anche con le manganellate, perché l'unico strumento che ha Giorgia Meloni è la repressione e non esita utilizzarlo. Se tutti gli altri mani persino a qualsiasi forma di dissenso, la scuola ti punisce abbassando il modo incondotto. Ancora una volta cercano di punire il dissenso, di farci paura. Lo fa con il DTL Sicurezza, l'inclusione fino a 5 anni per tanteggiamento durante manifestazioni pubbliche, da 6 mesi a 2 anni per chi blocca le strade o binari, armi alle parte dell'ordine e anche fuori servizio. Un DTL Sicurezza che prova a ripriverci, a tagliarci, ma la verità è che a questo governo facciamo paura e l'unico strumento che hanno è questo. Ma se a loro facciamo paura, noi di paura non ne abbiamo. Noi studenti e studentesse non abbiamo paura di dire al nostro ministro che deve stare zitto perché le parole pronunciate sulla violenza di genere sono vergognose. Il problema delle violenze di genere nel nostro paese non è causato dall'immigrazione illegale, ma da un sistema radicato che si chiama pane al caso. E lo vediamo dal fatto che il 56% dei ragazzi pensa che la genosia sia un'espressione d'amore. Siamo stanche di essere molestate, violenzate e addirittura uccise per colpa di un sistema che non lo permette. Vogliamo essere libere, vogliamo una società giusta. Eravamo in piazza il 15 novembre e caro Presidente, caro governo, non ci stanchiamo e non ci stancheremo mai. Ci vogliono tutti chi vuole. Ci vediamo in piazza il 14 dicembre.